Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, in Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Siamo tornati con Sportello Reclami, anche oggi con una bella segnalazione che questa volta ci arriva dal Casentino, Alto Casentino siamo a strada, vediamo perché. Strada in Casentino, comune di Castel San Nicolò, il nostro Lorenzo Cagliazzo ci spiega perché siamo venuti fino qua in questa bella parte del Casentino. Un problema molto importante come al solito, siamo in comune di Castel San Nicolò, a parte il freddo che ne vischia, comunque la cosa interessante è che questo problema è di natura, si potrebbe dire pediatrica, ma nemmeno tanto. È un servizio che la gente non ha o che potrebbe non avere tra poco. Comunque presento il mio amico Leonello Biondi e tra poco lo vedete. La situazione è abbastanza seria e ingarbugliata, ci spiega tutto quanto il nostro prezioso interlocutore. Il problema per cui, fra l'altro vi ringrazio insomma l'emittente che è sempre così solerte a ascoltare i problemi dei cittadini, questa è una cosa molto importante secondo me. Qual è il problema? In questa comunità, in questo paese, a strada in Casentino, in via Doccia qui vicino, era presente, da sempre praticamente, fino all'anno scorso era presente un punto sanitario. In questo punto sanitario venivano svolti sostanzialmente tre servizi sanitari. Il punto prelievi, di cui fra l'altro tanti anziani del paese usufruivano, un po' tutti insomma. In più c'erano gli altri servizi sanitari, erano il pediatra e il ginecologo. Quindi un servizio molto importante. Cosa è successo? Dall'inizio dell'anno è stato appeso un foglio alla porta di questo immobile in cui si dice, l'amministrazione comunale dice, che per adeguamento alla struttura questi servizi saranno trasferiti altrove. In pratica questi servizi saranno temporaneamente trasferiti in altri luoghi. Di questi tre servizi, un servizio, il servizio del punto prelievi, che secondo me è anche il servizio più importante, è stato trasferito in un locale della cassa di riposo. Fortunatamente almeno questo servizio rimane. Gli altri due servizi, è scritto in questo foglio dell'amministrazione comunale, che saranno trasferiti presso altri luoghi, non in questo comune, ma presso altre strutture sanitarie del comune di Ponta Poppi. La preoccupazione mia e degli abitanti di questo comune, sostanzialmente qual è? In questo foglio si fa riferimento al fatto che questi servizi vengono trasferiti per lavori di adeguamento alla struttura. Ma qui fate molta attenzione perché potrebbe scattare la sorpresa. Sentiamo. Da una ricognizione sugli atti comunali risulta che questa struttura è nell'elenco degli immobili in vendita. Quindi io approfitto del vostro servizio alla vostra amministrazione per fare questa domanda all'amministrazione. Il trasferimento di questi servizi in altro luogo, in un altro comune, è un trasferimento temporaneo o è un trasferimento definitivo? Perché se è scritto che si devono fare degli adeguamenti in questo immobile, poi lo stesso immobile è annoverato fra gli edifici in alienazione, in vendita? Non ci fermiamo qua, tra poco la seconda parte, subito dopo gli spot. Seconda parte di Sportello Reclami, oggi siamo a strada in Casentino perché abbiamo ricevuto delle segnalazioni che una serie di servizi sanitari sono stati spostati a poppi, quindi con disagio da parte degli abitanti. Ci stiamo occupando di importanti servizi sanitari che venivano effettuati a strada in Casentino e che verranno temporaneamente trasferiti in altri luoghi, ma i residenti hanno paura di perderli per sempre. La preoccupazione da parte degli abitanti e del Paese è che quando vai a scrivere i servizi vengono trasferiti altrove, nella maggior parte delle volte questi servizi poi non ritornano più nei luoghi di provenienza. La nostra domanda, ma anche il nostro appello all'amministrazione comunale è fare chiarezza su questa problematica, perché lì c'è scritto nel foglio che questi servizi vengono trasferiti altrove per adeguare l'edificio comunale. L'edificio poi abbiamo visto che è in vendita, quindi c'è qualcosa che non torna. Il nostro appello all'amministrazione comunale è questo, cioè fare in modo che questi servizi non vengano trasferiti altrove. Fortunatamente il punto prelievi, che è quel servizio che poi viene usufruito di più dagli anziani, rimane qui, perché sennò sarebbe stato un dramma. Un anziano dover prendere la macchina, casomai dalla montagna, venire giù e poi dover continuare per altri chilometri, andare a Pontapoppi o in altri sedi. Ma così anche per il pediatra e anche per il ginecologo. Cioè questi cittadini che pagano le tasse qui hanno sempre avuto questo servizio e da oggi in poi, molto probabilmente, questo ce lo dovrà dire l'amministrazione, questo servizio in questo comune non ci sarà più, quindi saranno costretti con costi aggiuntivi a spostarsi altrove. L'importante è che i cittadini non debbano ricorrere a prestazioni private e quindi più costose. In questo caso specifico penso di no. Sicuramente capisco dove vuole arrivare la domanda. C'è anche in Toscana una linea politica che sulla gestione del socio-sanitario va in una direzione particolare in cui determinati servizi verranno sicuramente appaltati ai privati. In questo caso penso sia una questione un po' più pratica, nel senso che la USL, di concerto con l'amministrazione comunale, ha trasferito dei servizi in altra, ha centrato dei servizi in altra sede, una sede di Ponte Appoppi dove c'è la Casa della Salute e sicuramente avrà dei minori costi l'azienda sanitaria locale. Però voglio dire il comune alla fine determinati servizi per la propria popolazione deve resistere, deve far sì che rimangano qui perché se no che si fa? Si trasferisce tutti nel fondo valle. No, non è questa la politica che è sempre stata fatta in questi luoghi, quella di far sì che la gente rimanga nelle proprie luoghi, in montagna, di qua di là, però gli va da anche servizi, se porti via servizi insomma diventa un problema. In questo periodo purtroppo vanno di moda i tagli, non quelli di capelli. In questo caso diciamo non è una questione tanto di redditi perché determinati servizi sì, sono servizi a domanda individuale quindi vanno anche in base all'ISEE e quant'altro. No, cioè in questo caso io penso proprio si taglia i servizi per un discorso di tagliare in generale nel senso che probabilmente anche la USL avrà da far quadrare i suoi conti e dove trova terreno fertile che le amministrazioni comunali o sono più deboli o non capiscono l'importante di determinati servizi vanno a tagliare. La conclusione noi la affidiamo al nostro Lorenzo Cagliazzo. La conclusione è che il governo da qualsiasi livello sia taglia e la popolazione paga il mancato servizio eppure nella Costituzione italiana è scritto che siamo tutti uguali e dobbiamo avere pari diritti. Evidentemente l'Italia ha vari livelli e noi siamo a un livello più basso, ma noi combattiamo sempre. Qui strada in Casentino, a te Roberto Francini Questo è tutto per oggi, al solito ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica ma lo vedete poi durante la puntata sportello reclami, chiocciola, teletruria.it oppure il numero di telefono, il fax, quello che volete. L'importante è che continuiate a darci del materiale su cui lavorare, carburante per la nostra trasmissione. La puntata di oggi, ole, finisce anche questa nel nostro server perché possiate vederla, rivederla e magari anche commentarla. Raggiungendoci anche via Facebook. A tutti, grazie della vostra attenzione. Alla prossima! Ci sono cose che nessuno ti dirà Ci sono cose che nessuno ti darà In Italia Ci sono cose che nessuno ti dirà Ci sono cose che nessuno ti darà Sei nato e morto qua Nato nel paese delle mezze verità Ci sono cose che nessuno ti darà